Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial e quest'oggi vi andrò a mostrare come ottenere la beta di Tom Clancy's The Division allora per ottenerlo vi basterà andare nel link che trovate nella descrizione e vi porterà questa pagina appunto del sito ufficiale del gioco dopodiché dovete andare a cliccare semplicemente su beta e vi porterà su quest'altra pagina dove dovete andare semplicemente a selezionare la vostra piattaforma di gioco quindi nel mio caso pc e poi andare a fare next dopodiché vi dirà che appunto dovete semplicemente se avete un codice già dove dovete inserire potete prescaricare il gioco altrimenti vi basterà cliccare su next e appunto qua ci dice che possiamo invitare altri tre nostri amici mettendo le loro email quindi è una cosa opzionale che non potete leggere qui, qui non è appunto obbligatoria vi basterà fare next e voi sarete iscritti alla waitlist per ottenere la key di Tom Clancy's The Division ovviamente questo procedimento vi dovrebbe garantire la certezza di avere la beta ma la key della beta ma non è del tutto sicuro in quanto moltissima gente si iscrive ogni giorno e ogni secondo e quindi appunto prima di farete questi processi prima potete avere la possibilità di accedere alla beta quindi ragazzi il tutorial è finito qui, molto veloce e molto breve spero che vi sia stato d'aiuto in caso fosse così vi vedete lasciare un bel mi piace e noi ci becchiamo nel prossimo tutorial ciao a tutti ciao a tutti